C'è qualcosa che sta facendo ammalare le persone, che le porta negli ospedali, le fa morire. C'è qualcosa che sta causando dei danni seri alla salute e che sta preoccupando le autorità internazionali. Riguarda il nostro stile di vita e causa molti problemi anche tra le famiglie, al lavoro e via dicendo. C'è un'epidemia in corso e non è l'epidemia da Covid-19. C'è anche quella, ma prima di quella e da molto più tempo, nella società soprattutto occidentale, ma anche da decenni pure in quella orientale, così come sta avvenendo persino in America Latina, c'è un'epidemia da stress, la vera, maggiore causa di decessi in tutto quanto il mondo. E non lo dice Giuseppe Vitale da oria, da casa sua, davanti alla sua vision board, davanti alla sua bacheca d'ispirazione, ma è arcinoto a grandi autori, soprattutto di crescita personale. Uno di questi, dei quali adesso voglio brevemente parlarti, è Dale Carnegie, autore di Come vincere lo stress e cominciare finalmente a vivere. Quindi lo stress di cui parla questo splendido libro che io ho avuto la grande fortuna di leggere e di mettere in pratica è davvero pericoloso. È proprio lo stress che causa le peggiori situazioni psicologiche, ma anche psicosomatiche. Cioè entra in circolo il veleno e ti ammazza. Infatti, leggo brevemente nel retro di copertina di questo libro, i capitoli riguardano come imparare ad affrontare ogni situazione difficile, come eliminare il 50% delle preoccupazioni, come ignorare le critiche altrui. E' come guarire dalla depressione in due settimane. Più volte questo grande autore americano racconta di come lo stress abbia creato poi tante malattie, perché è a questo che porta. Guardiamo un po' i numeri anche. L'altro giorno, ad esempio, sono morte 630 persone per problemi cardiovascolari. Per i tumori sono deceduti 410 individui. I morti per il Covid-19 sono stati 141. Quindi, guardiamo un po' le proporzioni per intenderci. Da decenni e decenni ci sono centinaia e centinaia di morti, almeno in Italia, a causa delle malattie cardiovascolari, sulle quali ha una importante influenza tutta quanta la sfera della socialità, come anche del proprio pensiero su se stessi, su quello che si fa, sullo stile di vita. Insomma, questo solo in Italia. Pensiamo un po' che cosa succede in tutto il mondo ogni giorno. Ora, sicuramente c'è una novità, che è il Covid-19, che stiamo conoscendo almeno da febbraio-marzo, che sicuramente era in circolo anche da prima. Sicuramente c'è stato uno spillover, cioè un passaggio dagli animali, molto probabilmente i pipistrelli all'uomo. Il virus ha fatto il salto, ci vuole tempo ancora per realizzare il vaccino. Quindi c'è una seconda epidemia in corso, i cui numeri, è evidente, sono inferiori ai decessi per altre cause. Ora, questo non vuol dire che bisogna stare rilassati, che non bisogna usare la mascherina, che non bisogna pulirsi di frequente le mani. Certo che dobbiamo mettere in atto tutte le misure, compreso il distanziamento sociale. Anche lì bisogna stare attenti, bisogna stare a distanza per non trasmettersi il virus, per non contagiarsi. Quindi questa è sicuramente la seconda epidemia in corso sulla quale bisogna fare tutto il possibile. Una parte del lavoro va anche fatto, ricordiamolo, sul proprio sistema di difesa immunitario, sul proprio sistema, quindi su se stessi, sulla propria vita, sul proprio stile di vita, su quello che si mangia, sul movimento, ma anche sulla serenità, sulla tranquillità interiore. Ora, io come titolo ho dato le tre epidemie a questo video post. La terza epidemia è l'epidemia della speranza. Anche quella è molto contagiosa, ed è la speranza che sostiene il mondo. La speranza in un futuro migliore, la speranza di riuscire a raggiungere le proprie mete, la speranza di incontrare l'amore, di mettere su famiglia, di realizzare le proprie passioni, di vivere una vita all'altezza dei propri sogni. Una speranza che per molti è vana, perché la ritengono qualcosa di effimero, qualcosa di illusorio, persino. E sotto certi aspetti la speranza, intesa così, ha qualcosa di negativo, perché se viene lasciata lì come qualcosa che se c'è bene, se non c'è, andiamo avanti uguale, beh, allora sì che è deleterio, se la lasciamo molto lontana. Ma se invece intendiamo la speranza per ciò che davvero è, allora le cose qui cambiano, perché si tratta di una forza cosmica che è all'opera ogni giorno nella nostra vita, che modifica in meglio tutto quello che succede. È grazie alla speranza che si riescono a raggiungere tanti obiettivi, che le persone davvero hanno l'entusiasmo di vivere, la gioia di stare al mondo, di fare tante belle cose. Pensate a qualcuno tra i vostri familiari, amici o contatti che vedete particolarmente attivo, che vedete su di giri, certe volte, e che magari non ha ogni giorno un grande successo, ha anche i suoi periodi di buio, ma poco dopo si rialza. Quindi c'è una terza, per fortuna, grande epidemia in corso in tutto il mondo che ci dà la possibilità di affrontare questo momento, come anche ogni altra difficoltà. La speranza è altamente contagiosa e se noi viviamo in uno stato di benessere, qualunque cosa ci accada, senza farci toccare quello che accade all'esterno, se noi stiamo bene con noi stessi, ci prendiamo cura di quello che facciamo, allora, da questo punto di vista, la nostra percezione del mondo cambia. Tutto cambia in meglio e abbiamo le migliori energie per agire nel nostro quotidiano. Per fare questo, ovviamente, occorre un lavoro su se stessi. Io vi consiglio di dare un po' un'occhiata al sito di Deepak Chopra, un grande autore indiano, tra l'altro anche medico, che sta proponendo, proprio in questo periodo di incertezza, delle meditazioni guidate sulla speranza. Vi consiglio anche un'altra lettura, un libro che per me è stato un grande cambiamento, proprio una svolta da una percezione della vita tutto sommato tranquilla, un po' troppo tranquilla, noiosa, a volte troppo difficoltosa, un passaggio quindi da un periodo anche di depressione che stavo avendo ad una situazione invece di maggiore consapevolezza, di maggiore fiducia in me stesso. Sto parlando, ecco, scusate le mani davanti, ma il libro era di fianco al cellulare, sto parlando di un grande, grande classico della crescita personale, di Anthony Robbins, come migliorare il proprio stato mentale, fisico e finanziario, che è come sottotitolo manuale di psicologia del cambiamento. Tony Robbins è il formatore numero uno al mondo, lo dicono tutti, ci sono pochi dubbi, anzi, nessun dubbio. In proposito, ogni giorno migliaia e migliaia di persone si rivolgono a lui per cominciare la scalata verso se stessi, verso il proprio successo personale. In questo libro lui dà tutto quello che conosce a proposito della gestione delle emozioni, a proposito della gestione delle credenze, che si suddividono in credenze negative, in credenze potenzianti, vi dà tante tecniche proprio per liberarvi dal soffocamento di certe emozioni, dall'impulsività, vi fa fare un lavoro sulle regole, e sono importanti anche queste, sui propri valori di vita, e via dicendo. Quindi, se ci sono tre epidemie, la prima abbiamo capito come affrontarla grazie al libro di Dave Carnegie, e quindi lavorare per fronteggiare lo stress. La seconda, affidiamoci alle misure che le autorità ci dicono, ma facciamo anche qualche passo in più. prendiamo tanta vitamina D mettendoci al sole, e anche cerchiamo di assumere la vitamina A e la vitamina C, molto importanti per il nostro sistema immunitario, e cerchiamo di far proliferare, invece, il più possibile, l'epidemia della speranza. Facciamo le meditazioni guidate proposte da dipakciopra.it, e leggiamo il libro di Tony Robbins. Tutti i link di questi materiali di cui vi sto parlando li trovate, li trovate, trovate, scusate ogni tanto in cespico, e l'emozione. Oggi sono particolarmente euforico, perché ho lavorato proprio sulla meditazione guidata della speranza che incendia il mondo. Adesso non mi ricordo perfettamente, ormai il mio cervello è andato un po' in pappa, perché il benessere a volte provoca una sorta di stato di ubriacatura, che un pochettino ci fa bene, ci fa diventare brilli, ci fa fare imprese che altrimenti non faremmo. non mi resta che darvi anche il link al mio blog personale, dove ci sono anche tanti altri consigli simili a questo, www.giuseppevitale.it e EU lo trovate anche nella descrizione qua sotto del video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video post, al prossimo video articolo. Fatemi tante domande, critiche, quello che volete, e alla prossima. Ciao, grazie.